passiamo al secondo seminario che si intitola psicologia etnografia visiva terrò a dopo eventualmente trasformerò in forma di domande alcune riflessioni iniziali vi vorrei giusto presentare i relatori perché abbiamo messo su un gruppo che è molto interessante e secondo me nelle loro differenze anche molto complementare per cui io sono molto curioso di come andrà questa riflessione allora primo ospite nicola scaldaferri che è professore dietro musicologia all'università di milano dove dirige il laboratorio dietro musicologia e antropologia visuale ne ha cronimo ed è autore di libri saggi di riflessione teorica sull'etrografia audiovisiva ma anche autore di diversi documentari per certi versi è simile il profilo di felice tiraganno che il secondo relatore che professore di antropologia culturale all'università di cagliari ma specializzato in antropologia visiva dirige il laboratorio di etnografia visiva dell'università di cagliari e anche lui ha questo doppio fronte della riflessione teorica insomma i temi dell'antropologia visiva sono una parte importante sul lavoro di ricerca ma anche pratica perché autore di diversi documentari il terzo ospite invece gianfranco cavidu che noto autore regista sceneggiatore docente di regia al centro sperimentale di cinematografia di roma vincitore nel 2017 del david di donatello per la miglior sceneggiatura con il film la stoffa dei sogni ma gianfranco anche un background è una laurea in etnomusicologia perché perché appunto da lì poi parte in realtà tutta la sua la sua esperienza quindi ci sono queste figure che si intrecciano ecco i tre relatori hanno tutti un background in campo diciamo delle discipline delle scienze umanistiche hanno tutti esperienze pratiche la realizzazione di documentari ma uno regista professionista gli altri due sono sono dei professori io inizierei con nicola scaldaferri se siete d'accordo al quale lascio la parola tutti i relatori hanno dei materiali da farci vedere che noi manderemo qui dalla dalla regia per cui quando è il momento voi chiamate materiale noi li trasmettiamo e prego nicola grazie mi sentite ok un saluto a tutti è veramente per me un grande piacere così diciamo riuscire ad essere collegato a questo evento è un saluto particolare a ignazio mi spiace ho perso proprio il suo intervento iniziale perché stavo finendo la seduta di tesi mi sono poi inserito per sentire quello di marco e poi quello quello di simone che devo dire mi hanno dato modo di riflettere anche in merito alle cose che appunto mi ero preparato da dire dunque un po dopo aver avuto una chiacchierata proprio con marco e ancora grazie diciamo per questo invito che veramente mi ha dato anche modo di fare qualche riflessione ecco si era deciso di partire anche da una riflessione critica su alcuni termini quindi diciamo da un livello analitico che è stato visto prima e anche con tutta una serie di applicazioni pratiche soprattutto nello studio delle performance adesso forse ci spostiamo un attimo su una questione anche più da un lato teorica però non solo teorica tra l'altro lato anche un po proprio di possiamo dire di sostanza anche della disciplina quindi i termini dai quali si parte appunto quello di etnomusicologia etnografia visiva ecco cominciare a ragionare su questi termini ecco innanzitutto la prima cosa che io vi bilancierei come proposta un po a tutti approfittando anche di questa bella occasione di cominciare a ragionare su questi termini e capire anche se sono diciamo continuano essere pertinenti per poter fare riferimento alle cose di cui noi ci occupiamo ecco credo che il caso anche di simone tristitani sia stato molto interessante perché in questo straordinario come dire sistema anche di di analisi di studio ecco però li parliamo veramente di sostanzialmente di performance musicali io tra l'altro ho avuto il grande piacere di aver lavorato con simone proprio per un progetto alla fondazione cini per un punto un concerto di questo famoso cantore epico kosovaro anche lì con sei camere c'è un lavoro assolutamente straordinario di questo state fatte alcune clip perché poi ci sarà appunto un proseguimento nella realizzazione di un film però ecco parliamo analisi di casi specifici in questo caso performance musicali ecco se poi allarghiamo però il campo e cominciamo a ragionare su termini come etnomusicologia etnografia visiva o etnografia visuale qui c'è una certa fluidità anche terminologica qui poi vedremo anche cosa hanno da dire i colleghi in merito ecco ci rendiamo conto che alcune cose sono anche abbastanza problematiche forse sarebbe anche necessario diciamo avviare oggi una riflessione per capire se effettivamente questi termini possono ancora essere essere pertinenti ecco per per me per esempio facendo riferimento anche alla mia esperienza personale un termine è sempre molto difficile da trattare quello di documentazione documentazione soprattutto quando noi andiamo sul campo dobbiamo come dire costruire dei prodotti che poi devono essere sottoposti a delle analisi che è anche quello che per tantissimo tempo hanno fatto gli etnomusicologi quindi un lavoro un po diverso rispetto a quello che abbiamo visto diciamo nella negli esempi precedenti pensiamo anche alcuni casi che ha fatto vedere anche prima marco di ugo zem per queste analisi quelle famose diciamo di certi di certi esempi ecco però quando noi andiamo sul campo dobbiamo in qualche modo utilizzare tutto il sistema di mezzi o divisivi per arrivare come dire a creare un nostro oggetto sul quale poi noi dobbiamo sottoporre così diciamo anche le nostre riflessioni dei nostri approcci teorici ecco allora lì secondo me già il termine di documentazione comincia ad essere un po scivoloso proprio perché l'esperienza che abbiamo noi tutti siamo tutti passati insomma chiunque ha avuto esperienza di campo e ci rendiamo conto che il documento in gran parte costruito quindi diciamo questo dipende anche da dall'interazione con il campo dipende anche dal tipo di dotazione tecnologica che noi che noi utilizziamo quindi a seconda anche del tipo di mezzi che abbiamo riusciamo ad avere dei risultati piuttosto che altri tipo appunto di anche di interferenze che ci possono essere quindi una cosa che io comincerei a proporre è proprio una riflessione sul termine documento documentazione ecco se ancora noi come musicologi possiamo utilizzare così diciamo dando già per scontato un significato che può avere questa parola oppure dobbiamo cominciare invece anche a contestualizzarla un po come hanno fatto anche gli antropologi con la scrittura quindi ragionare diciamo su altre cose ecco citavo tempo fa proprio genio imbriani questo antropologo che ha scritto molto sulla scrittura antropologica diceva appunto prima o poi ci interregheremo anche sul genere della scrittura etnografica che mi chiedevo se un certo punto cominceremo anche a interrogarci a riflettere sul genere della registrazione etnografica o del intensi veramente come film come narrazione come forma anche di costruzione retorica e non come documento quindi diciamo questa è un po' una delle prime idee che vi lancio lì e questo sono veramente contento poi di poter interloquire anche con felice tiragallo che come dire che ha ragionato anche su questi temi per cominciare anche a mettere a fuoco magari un approccio critico anche l'idea di di documento documento all'interno delle nostre delle nostre discipline ecco sì un altro termine molto critico è proprio quello di etnografia visiva secondo me ne parlavamo già proprio nella chiacchierata preliminare che abbiamo avuto con con marco che è stata anche molto illuminante devo dire per mettere a fuoco certe questioni ecco per esempio io preferisco usare se mai etnografia audiovisiva parlare di visiva secondo me si crea un po una sorta di deformazione diciamo ecco noi quando abbiamo a che fare abbiamo a che fare veramente sempre con dei mezzi audiovisivi anche quando si parla di visual anthropology però alla fine parliamo sempre di audio visual anthropology diciamo i mezzi con i quali noi abbiamo sempre a che fare riguardano sempre l'occhio e l'orecchio quindi forse anche dal punto di vista terminologico e di riflessione conseguente bisognerebbe cominciare anche a bilanciare un attimo i significati termini che utilizziamo e questo dorme quindi sarà farlo noi insomma ecco come dire usare forse anche una cassetta degli attrezzi un po più adatta anche a quelle che possono essere delle delle esigenze del tempo tenendo presente che poi quando parliamo comunque di audio video si parla comunque di una riduzione di quello che può essere tutto il fenomeno che noi andiamo a studiare adesso senza tirare in ballo appunto tutto il sensori turn degli ultimi anni però mi viene in mente un fotografo di accettura antonio trivigno che a un certo punto dopo aver visto tutto il lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa con steven feld quindi tutto l'approccio customologia eccetera eccetera le fotografie dice tutto bello però dice se vogliamo apprezzare veramente questa festa adesso ci manca un bel piatto di maccheroni quindi dice quando faremo una presentazione dobbiamo aggiungerci anche il gusto dobbiamo aggiungerci anche l'olfatto eccetera insomma il problema sappiamo bene una volta che uno esce dalla scrittura si affrontano poi e si aprono tutta una serie di altri campi si entra un po in un ambito di una di una terra incognita in cui forse probabilmente la la vera forza è dato da certe strategie narrative e da da certi da certi percorsi che noi riusciamo a creare riusciamo a mettere in atto e in questo sono veramente contento diciamo di poter parlare dopo simone perché secondo me il suo intervento è stato veramente esemplificativo diciamo di tutta una serie di situazioni analitiche relative a dinamiche performative quindi assolutamente straordinarie per poter cogliere in tutta una serie di sottigliezze è veramente molto bello lavoro che fanno loro ecco però come dire stiamo parlando di situazioni tutto sommato ben individuate quasi in vitro ecco se penso anche con l'esperienza straordinaria che abbiamo fatto a venezia con sei camere con cantori iselesi di allo square insomma era veramente una situazione ben focalizzata caso diverso così diciamo se l'etnomusicologo nella sua accezione più consueta invece si trova poi a dover interagire con un campo che peraltro mutevole e dover ragionare sempre di più come accade negli ultimi anni anche con una concezione possiamo dire critica stessa del termine musica ormai ci sono questi contatti continui anche col mondo dei sound studies per cui quando parliamo di musica in realtà tendiamo quasi a distinguerla anche dall'idea di suono quindi diciamo sono problematiche che si stanno sempre un po stanno prendendo diciamo dal mio punto di vista una consistenza una consistenza sempre maggiore quindi criticità del termine documento una riflessione proprio su questo termine di etnografia visiva aggiungere audiovisiva per lo meno ecco se non una vera e propria attenzione verso dimensione sensoriale più vasta e anche il termine etnomusicologia forse necessita di qualche assestamento ci sono colleghi che ne stanno facendo una battaglia diciamo per mantenerlo ci chiamo come detto tim rice insomma che anche recentemente ha ribadito fortemente questa queste ragioni della disciplina quasi andando a pescare anche così diciamo ad un serbatoio quasi etimologico ecco però resta il fatto che ci sono altre discipline che in questo momento sono si stanno occupando di situazioni molto vicine molto simili con le quali bisogna necessariamente dialogare e avere a che fare per cui diciamo anche il termine etnomusicologia fondamentalmente forse necessita un po di qualche qualche riflessione per esempio era molto interessante anche il caso prima di simone quando parte del quartetto d'archi ecco come dire certe tecniche certe certi approcci analitici poi di fatto diventa veramente difficile confinarli all'interno di certi ambiti disciplinari e quindi questa per me per me per questo riavecchia diciamo che mi sono preoccupato un po di cose a cavallo tra etnomusicologia e certe performance contemporanee ecco quindi però il caso di prima era proprio esemplare che ci faceva vedere la trasversalità di certi approcci quindi anche forse probabilmente ne facciamo più una una questione anche di metodo quindi questo secondo me è uno dei sono alcune delle tematiche delle riflessioni così che ho proprio appuntato partendo anche dalla dalla chiacchierata preliminare con Marco poi c'è un altro punto molto importante secondo me da considerare quando parliamo di questioni audio video o comunque diciamo etnografia visiva audiovisiva ecco c'è anche la questione della fotografia fotografia che va sempre presa in considerazione perché è un altro modo di visualizzare di mediatizzare diciamo certi eventi legati alla realtà in una forma come dire che si offre all'occhio che segue poi delle strategie completamente diverse diciamo rispetto a quelle del video diverse non vuol dire né meglio né peggio sono diverse e come dire con delle situazioni che possono anche essere molto valide anche molto più efficaci dal punto di vista analitico magari rispetto a quello che si può fare col video quindi diciamo anche lì secondo me c'è bisogno di un così diciamo una una riflessione specifica proprio che tenga in considerazione anche la fotografia allora queste erano un po una serie di prime questioni che io volevo porvi dopo di che avevo intenzione adesso di sottoporre alla vostra attenzione due casi specifici diciamo innanzitutto un breve video che appartiene una serie di brevi lavori che io avevo definito alcuni anni fa etnografia audiovisuali che avevo realizzato proprio nell'ambito del laboratorio l'attività del laboratorio che ci sono lavori di pochissimi minuti questo dura poco più di tre minuti e che affronta un caso classico diciamo di indagine etnomusicologica siamo in lombardia il lavoro si sofferma su uno degli eventi diciamo che è stato oggetto di una lunghissima tradizione di studi dell'etnomusicologia dell'antropologia cioè il carnevale di bagolino degli anni settanta in poi è stato oggetto soprattutto dell'attenzione di roberto lei di talo sordi insomma c'è veramente una una lunga serie di studiosi che se ne occupato e lavorare oggi su bagolino però appunto richiede forse degli atteggiamenti degli approcci un po diversi rispetto a quello che è successo in passato proprio perché perché le cose si trasformano noi parliamo di una disciplina che si evolve e gli oggetti naturalmente del nostro studio evolvono e ci sono sempre come dire un numero anche maggiore forse di interferenze rispetto al passato questa cosa che vi faccio vedere ve la faccio vedere sia per così per dimostrarvi un caso esemplare diciamo ecco marco ma vai chiesti mostrare anche un diciamo degli oggetti di indagine ma anche perché questo qui per me è stato un un'occasione questa come altre diciamo che rientrano in questo filone di di lavori di cercare di individuare anche una possibile forma narrativa che facesse a meno dell'uso della scrittura per poter trasmettere anche diciamo dei concetti delle idee rispetto a quello che poteva essere il focus di un ragionamento che intendevo sviluppare e qui c'è il carnevale ma come vedrete c'è anche altro il problema per me in questo caso era cercare di interrogarvi e far capire agli altri cosa vuol dire oggi studiare degli eventi di questo genere sono state fatte nel 2014 il montaggio è stato fatto alcuni anni dopo allora direi di cominciare a vedere questo questi minuti sono tre minuti relativi al carnevale di vagolini a Grazie a tutti. 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 e 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e anche nel campo. e a tutti. 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 e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a 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 tutti. sono. e a tutti. 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 c'era. e a tutti. 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 e tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. tutti. e 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 tutti. 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 e tutti. e tutti. 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 e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. tutti. e tutti. tutti. e tutti. e tutti. 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 e tutti. tutti. e tutti. e tutti. e tutti. 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 . tutti. tutti. e tutti. 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 . tutti. 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 . tutti. 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 Questo approccio di Feld va anche un po' nella direzione più volte auspicata di questo ripensamento di certi parametri. Una curiosità sul famoso concerto di Darmstadt, io ero lì quella volta, quegli anni ho studiato la composizione del conservatore di Parma ed ero lì proprio a seguire, ero come borsista. Devo dire è stata un'esperienza per me allucinante quella lì, ne ho parlato poi con Antonio Lodoro, con tanti compositori presenti, ho questo ricordo veramente vivissimo di questi poveracci dei tenori di Bitti che avevano cantato a Luigi IX, Fulgido Astro, e poi si sono trovati di fronte alla fabbrica illuminata, è veramente la faccia questi allucinante della serie, ma quando finisce sta roba qui? Quindi quella lì veramente è stata un'esperienza su cui varrebbe la pena ritornarci, però discuterela criticamente, al di là poi di certi, come dire, resoconti un po' così, forse non del tutto aderenti. Mi ricordo appunto il panegirico di Pestaloccia, però io ero lì veramente, insomma, ho un ricordo ben diverso di questo incontro tra la tradizione sarda e la cosa contemporanea. Io purtroppo vi devo veramente salutare. Grazie davvero, ma davvero Marco, io ti inviterei magari a continuare su queste conversazioni, perché mi sembra una formula molto ben riuscita e soprattutto il dibattito meriterebbe davvero un proseguimento. Grazie, grazie a te Nicola, a presto. Allora, non so, c'è qualcuno... Ignazio aveva delle domande dall'inizio, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Non c'è spazio agli altri. In chat non ho visto nuovi messaggi. Non ci sono altri interventi, vorrei chiedere anche io una cosa, non so, posso farlo dopo. Dai, dai. No, c'è un altro messaggio in chat. Ah, non l'avevo visto, c'è un messaggio in chat. Una cosa, sì. Allora, più che una domanda, una considerazione. Interessantissima integrazione delle esperienze più avanzate legate alla tecnologia, alla multimedialità nazionale e internazionale, tra passato, presente e futuro e diversi spunti di analisi, fatti di vocalità, musica e immagine, tratti dagli innumerevoli spunti culturali della nostra regione. Giovanna Maria, non riesco a leggere... Ah, Pisano, ancora ho visto. Bene, grazie del commento. Volevo fare giusto una brevissima considerazione, in qualche modo, su questa linea. Per me è stato un pomeriggio fantastico per riflettere su questi temi, nel senso che, in qualche modo, avevo immaginato nel mio intervento di provare a porre questo tentativo di passare dalla dimensione della pura documentazione scientifica, documentazione audiovisiva finalizzata all'analisi musicale, e provare a inserire, diciamo, a muoversi nella direzione invece di una documentazione che riesca a cogliere l'evento performativo, a raccontarlo. È una piccola cosa, prima di arrivare, diciamo, alla forma della creazione cinematografica, alla forma artistica del racconto per immagini, però per me è una sfida bella e mi piace immaginare questo continuum, diciamo, dalla documentazione scientifica o la creazione di materiali per analisi fino al lavoro creativo cinematografico, ci si può, in qualche modo, spostare liberamente all'interno di questo continuum e magari il mio tentativo, appunto, nel mio piccolo ad Aram, è quello di garantire, come mi si chiede in prima battuta, di avere le attrezzature, le conoscenze e le strutture per generare materiali utili alla ricerca scientifica, però anche quando è come possibile, diciamo, inserire quelle due videocamere in più che permettono di creare dei materiali che poi ci permettono anche di lavorarci e di creare dei racconti delle storie di performance, che comunque, voglio dire, noi a volte facciamo anche esperimenti di laboratorio come quello estremo del quartetto d'archi, che avete visto, però molte altre volte organizziamo dei veri e propri concerti con un'audience, quindi quelli sono degli eventi performativi in piena regola e validi da documentare e da raccontare e quindi questo è un pochino il contesto, ci sarebbe tanto da dire, tanti spunti davvero interessanti, ringrazio tutti. Posso chiederti una cosa, Simone? Posto che, insomma, avrei anche altre domande agli altri, volevo ringraziare Gianfranco, Nicola e Felice, perché gli interventi sono stati veramente densissimi, ricchi di informazioni, su cui si potrebbe discutere molto, ma visto che è tardi, volevo chiedere a Simone cosa mi preoccupa di questo lavoro che state facendo i novi? Ho detto che la telecamera, io ho sempre avuto un po' di paura, perché mi pare che mi dia informazioni in più, a parte il fatto che mi vieta di godere del momento della intersensorialità della performance. La performance è una situazione multisensoriale e tu quando vai a studiare una performance devi stare lì dentro, devi sentirla questa, no? L'uso della telecamera è un mio difetto, perché non l'ho mai provato, eccetera, eccetera. Questo un po' me lo vieta, no? E me lo riduce. E questa è una dimensione che non mi piace dell'uso della telecamera, questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è quello che la telecamera mi dà molte più informazioni rispetto a quelle che mi possono servire, o comunque mi dà delle informazioni in più. Per esempio, se tu, come hai fatto, mi fai vedere la performance di un chitarrista e mi metti una telecamera sulla mano destra, una telecamera sulla mano sinistra, è magnifico, ho un sacco di informazioni che io senza quelle telecamere ci avrei messo sei anni a trovarle, no? Perché mi dai tutta una serie di informazioni sui movimenti delle mani, su tutte le dinamiche, diciamo, comportamentali da cui scaturisce il suono. Ma in una situazione più complessa, no? Dove ci sono, per esempio, ho visto in alcuni dei filmati brevi, bellissimi, che ci hai fatto vedere, c'erano degli... in un certo momento c'era l'uomo che faceva uno scambio di sguardi con la donna e in un altro momento questa cosa non c'era. Allora, questo ha a che fare con la musica, cioè è musicale, perché lo sguardo tra due performer, per mettersi d'accordo, è un fatto musicale in una performance, no? E dunque io, lavorando con l'esperienza del musicista, lavorando in una dimensione di dialogo, di stretto dialogo, riesco a capire se quella cosa lì ha un intento di carattere musicale, cioè fa parte della musica quello sguardo tra l'uomo e la donna, oppure non fa parte della musica. Allora, la telecamera mi dà un sacco di informazioni, no? In questo senso. Che non mi aiuta, almeno, poi magari ci sarà un software che sicuramente farà questo, perché mi hai steso con tutti questi software che fanno un sacco di cose, tranne ancora il caffè, ma tutto il resto lo fanno. Allora, la telecamera mi dà un sacco di informazioni, così tante, che, voglio dire, mi mette in crisi per finalità di carattere analitico. Stiamo parlando di analisi musicale, e quindi stiamo parlando di questo, non di costruzione dei filmati, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di analisi musicale, quella, insomma, che si comincia a fare quando si comincia a fare etnomusicologia dal vero. Sì, ma questo è un tema molto ampio e difficile da trattare in breve. Voglio dire, sì, allora, secondo me, da una parte c'è il discorso di... Io trovo difficile accettare il fatto che, diciamo, il video o qualcos'altro ci dia troppe informazioni, nel senso che, in qualche modo, per me, io trovo che siano sempre poche, nel senso che il fenomeno della performance musicale è un fenomeno molto complesso e quindi è più del video, è più dell'audio, e c'è tutta la sensorialità, e c'è l'emozionalità, e c'è tanto altro che non si riesce a catturare tutto, secondo me. Per cui, secondo me, si tratta sempre di una rappresentazione, una documentazione parziale di un fenomeno molto complesso. E poi c'è il problema, invece, dell'azione di un documentarista che disturba una performance, e quello, concordo, è un problema che vivo in modo a volte anche drammatico, perché per me è un dilemma quello del mio intervento, comunque all'interno di uno spazio performativo, più o meno da fuori, più o meno dentro, sia da un punto di vista del fatto che, in qualche modo, mi sento un intruso se sto facendo documentazione e basta, sia perché, come persona che poi ama la musica, mi piacerebbe poterla vivere più pienamente. Io, onestamente, diciamo che riesco a trovare dei punti di equilibrio per cui riesco a sentire di vivere una performance anche mentre la documento. È sicuramente un'esperienza diversa, sono concentrato su alcune cose piuttosto che su altre, però comunque riesco a viverla. Certamente non nella sua completezza, però riesco a farlo. Si tratta di un compromesso, come spesso bisogna fare. Certo, sicuramente è una faccenda di compromessi, anche questa cosa dell'insufficienza delle informazioni. Vabbè, è chiaro che se sposti di 5 centimetri le telecamere hai un'altra percezione dell'evento performativo, hai un altro evento performativo, no? E quindi cosa si dovrebbe fare? Avere una molteplicità di telecamere, arrivare con 100 telecamere e documentare... Cioè, è una follia questa, no? La scelta, alla fine dei conti, la scelta chi la fa? Beh, la fai performare con la sua esperienza. Perché di questo stiamo parlando, di quello che fanno delle persone. Allora tu puoi accedere dall'esterno con la telecamera, ma puoi accedere in una prospettiva di carattere dialogica quando fai appunto quel tipo di indagine che, insomma, che questo spero che nessun software ce lo leverà mai e nessun algoritmo ce lo leverà mai, che è la dimensione del rapporto con una persona, insomma, del dialogismo e del parlare con una persona. Insomma, in fin dei conti è questo, no? Che tu ne metti 5, come hai fatto, telecamere, o ne metti 100, sarà sempre parziale. Allora non c'è una soluzione. Non ce ne metto mille e risolvo il problema. Perché il problema è legato a questa cosa qui, insomma, al rapporto con il performer. È la sua esperienza che stiamo studiando. E stiamo studiando la mia esperienza nel lavorare sulla sua esperienza. E questo è il nostro, in fin dei conti, l'obiettivo del nostro lavoro, no? Anche in quello che diceva Felice prima, insomma. Di fatto di questo stiamo parlando. È la mia esperienza nel avvicinarmi alle esperienze di altri. Anche le cose che diceva Gianfranco con questa esperienza familiare, no? È particolarmente significativa. Insomma, di questo stiamo parlando, no? Poi anche, se posso dire, anche con l'esperienza nel palco è quello che si chiama il binocolo interiore. Poi c'è poco da fare. Quando si va a teatro, noi abbiamo un totale come tipo di telecamera. Però quando poi a un certo punto c'è un monologo e c'è Eduardo, noi facciamo una zoomata e veramente vediamo solo lui, anche se siamo a 50 metri dal palcoscenico. Quindi noi stessi operiamo poi delle scelte in rapporto al performer, praticamente, alla forza del performer. Quando, appunto, e questo si vedeva in sonno su memoria, era chiarissimo. Dopo il primo giro di Luigi, l'attenzione era tutta su di lui. Non c'era, diciamo, né Fresu né Salis, né Leda che teneva. Aveva come una calamita. E poi tutti gli altri, come dire, appoggiavano questa cosa o rimanevano a guardarlo. E quello, scenicamente, per uno che sta lontano, comunque vede il palco per intero. In realtà fa uno zoom con la sua anima. Sì, sì, ma io mi riferivo all'analisi musicale vera e propria, perché quella che abbiamo studiato. Perché il gesto del movimento dell'occhio, del fare l'occhiolino di una cantante a un cantante, e questo troverebbe il suo spazio anche in una trascrizione fatta bene, alla Bartok, voglio dire. Anche Bartok suggeriva di mettere anche queste piccole cose, perché queste sono significative, hanno un riflesso sonoro, hanno una manifestazione sonora. Ma scusa, molto brevemente, Laura e Martin hanno iniziato a lavorare proprio sull'interazione tra musicisti sul palco, e le due videocamere sono nate proprio per cogliere la visione centrale e la versione laterale per cogliere tutti gli incroci di sguardi tra i tre o quattro artisti sul palco e poi hanno allargato agli sguardi con l'audience e quindi le telecamere sono moltiplicate in prima battuta proprio per questo, per cogliere l'interazione tra i musicisti che era fatta di sguardi, di gesti e di tante altre cose. Sì, certo, però non tutti i gesti e gli sguardi hanno una finalità musicale. No, vabbè, certo, è quello che va interpretato. Alla fine come fai a scoprire quello che funziona musicalmente e quello che non funziona musicalmente? Lo fai perché vai a parlare con loro, c'è l'interazione, altrimenti no. Perché io non lo so, non conosco questa pratica musicale, da quello che ho visto uno può verificare che certamente in alcune cose quando c'era stato uno sguardo volevano dire qualcosa perché è cambiato qualcosa nel suono che gli ascoltavo e forse un altro invece no, perché era semplicemente che girando la testa si sono incrociati per un momento. Scusate che ci sono fatti un dialogo a due, ci sono un paio di domande. Allora, vado a recuperare al ritroso, c'era Alessio Longoni che chiedeva, pensate che il futuro dell'audiovisivo possa includere l'uso di supporti che possono essere visionati col 3D, visto che assistono a performance potrebbe essere difficoltoso nel prossimo futuro. Allora, se posso provo io a dare una risposta. Intanto mi ricollego a questo micro dibattito che mi ha preceduto, nel senso che io vedo in definitiva tutti questi tentativi come un desiderio di noi ricercatori di provare a riportare la pienezza dell'esperienza dal vivo, che è certamente, come dice Ignazio, l'esperienza più piena e forse irripetibile. E questa idea di utilizzare sempre più tecnologie, le tecnologie che si aggiornano per catturare più dati possibili, secondo me risponde a quell'esigenza. È sempre un compromesso, però è chiaro che il nostro lavoro come antropologi non può essere dire alle persone andate tutti a assistere alla musica dal vivo e a parlare con tutti i cantori. In qualche modo ci poniamo anche come figure di mediazione, sono quelle che dovrebbero raccontare quantomeno la nostra esperienza in quel campo. Vengo ad Alessio, sul 3D. Allora, io riprendo un po' la distinzione che ho fatto nel mio intervento. L'utilizzo del 3D e della realtà immersiva come strumento tecnologico per l'analisi, non so se Simone sa rispondere, non mi viene in mente adesso l'utilità. Sull'altro fronte, che è quello invece del raccontare gli esiti dell'analisi, del raccontare l'esito delle ricerche, sono campi già esplorati, ma io stesso ho due progetti in realtà in essere. Uno dove utilizziamo la realtà aumentata, che poi è anche quella che avete visto per il museo sugli strumenti musicali, ma anche due progetti in fase di realizzazione in cui utilizzeremo proprio i visori 3D per dare questa sensazione di immersione in un contesto performativo. Vi dico solo che lì la riflessione teorica, ma anche tecnologica connessa, è il fatto che nei visori 3D più semplici tu hai l'audio statico. Allora voi immaginate, come dire, la simulazione in 3D del essere al centro di una processione con il suonatore della Roledda sta avanti a voi, il carro con i vuoi, con il santo ancora davanti, e tu senti la musica della Roledda sta avanti. Se tu giri la testa, nei modelli più semplici, continua a sentire la musica che ti viene da di fronte ed è tutto poco realistico. Quindi ci vogliono tecnologie che mettano in sincrono anche lì l'audio e il vivo per dare una sensazione percettiva più simile alla realtà. C'era anche un'altra domanda, c'era una lunga premessa e poi una domanda, però forse è già emersa dal dibattito tra Ignazio e Simone, diceva se vogliamo registrare e cogliere audiovisivamente una performance come posso nel contempo godere pienamente le sensazioni del momento cercando di limitare distrazione e mediazione dei mezzi, che è un po' forse la questione che è già stata in parte dibattuta e posta da Ignazio e Simone. Sì, Alessio aveva, nella cosa finale che hai letto di Alessio, c'era una nota pessimista sul futuro della performance. Sì, come surrogato alla performance, cioè come dire, il 3D come surrogato alla performance. Alessio è un studenti, la conosciamo. Abbiamo parlato più volte di questo argomento. Allora, intanto mi dicevano qui che in realtà anche gli studenti collegati possono, se alzano la mano, poi possono anche utilizzare il microfono per l'accesso. Non so se c'è qualcun altro, qualche altro... Ma in attesa che qualcuno prenda la parola, posso magari provare a dire una cosa io che è una domanda un po' rivolta forse da un lato a Simone e dall'altro anche a Gianfranco perché io naturalmente la faccio come outsider sul piano chiaramente della ripresa di eventi musicali in sé. Però volevo dire, nella storia del documentario, voi saprete meglio di me che negli anni 60 i famosi fratelli americani, Macelless, poi Penn Baker, eccetera, eccetera, hanno rivelato un nuovo modo di realizzare film musicali, insomma, filmando i grandi raduni pop rock degli anni 60, 70, Monterrey, Woodstock, eccetera, eccetera, che naturalmente non si ponevano sul piano della precisione etnomusicologica, ma poi mi pare di capire che nella storia del documentario e anche del documentario etnografico questi esempi sono rimasti importanti perché hanno rivelato le virtù e comunque le possibilità anche conoscitive espresse dall'uso della macchina a mano. Ecco, io vorrei spezzare una lancia qui nel recupero, come dire, anche per fini di ricerca e per fini di documentazione, non sono per fini di spettacolarità, ma comunque dell'uno e dell'altro, perché insomma, un rifiuto, mi sembra che sia il caso di rifiutare questa dicotomia così stretta, della macchina a mano come una macchina che può seguire forse una performance musicale, può in qualche misura contribuire a creare una forma immersiva, quella che Ignazio lamenta come uno dei limiti dell'uso della macchina, provare, come dire, a pagare il pegno della soggettività, comunque dell'arbitraietà delle riprese, con lo scopo però di guadagnare sul piano, come dire, della restituzione di una, come dire, di una percezione immersiva della musica, che forse potrebbe essere una cosa che aggiungerebbe, come dire, consapevolezza e conoscenza, penso, come dire, alle cose ammirevoli, rigorose e assolutamente fantastiche proposte da Simone, ma però vorrei che anche su questo punto, come dire, lui magari esprimesse un'idea, perché mi sembra che anche nel modus normale del documentarismo etnografico di oggi ci sia questa, come dire, questo stilema della perfetta inquadratura, dell'immagine fissa, proprio come, come dire, come unità sintattica e stilistica rispettata un po' da tutti nel cinema. Quindi mi taccio, volevo dire solo questo, sollecitare avere un parere da voi, insomma, per le vostre competenze più specifiche su questo. Grazie. È complesso il discorso, è difficile farlo velocissimamente, ma rispetto a Simone, oramai anche col suono, noi stiamo andando sempre verso una ricerca di una riproduzione che assomiglia a quello che lui ci ha fatto fare. Quando si mixa su Dolby Atmos e oramai tutti i film, specialmente per il mercato internazionale, vanno anche fatti su Atmos. Atmos vuol dire che le fonti sonore circondano tutta la sala e anche il soffitto. Quindi praticamente è più del 7 più 1, quindi tu devi gestire praticamente lo spazio sonoro, la pressione sonora, rispetto, e però diventa un po' come stare, appunto, per ritornare a quello che dicevamo prima, come stare in una sorta di laboratorio, quella che sognavamo al conservatorio, come la camera che desse il silenzio assoluto in modo da raggiungere la purezza assoluta del suono. Perché poi anche in quella situazione basta spostarsi di un po' e dipende anche dal gusto del mixatore, per cui c'è la figura del mixatore, del montatore del suono, montatore degli ambienti, di rumorista, rumori veri, rumori ricostruiti, perché specialmente, diciamo, nel cinema hollywoodiano è diventata un'industria quella dei rumori, li mettono sotto copyright, perché i rumori paurosi sull'Atmos che c'ha Batman, li potrebbero fregare in un attimo, invece sono sotto copyright, perché sono frutto di un'elaborazione sonora che mischia tantissime tecniche, per cui è anche curioso, perché i microfoni adesso possono registrare a 360 gradi, per cui si può riprodurre lo sguardo di Marco se in un disastroso futuro dovessimo vedere un rito con la mascherina qui dentro e girando la testa, tecnicamente potremmo fartela girare anche col suono. Però invece poi c'è quest'altro mondo che è quello proprio fisico, cioè quello di entrare con la macchina da presa dentro un concerto, di sentire, di muoversi col performer, quindi di cercare di andare a prendere quella che è... Io mi sono laureato nell'interazione della musica nei rituali di trance, quella che è proprio il momento della trance, praticamente, il momento in cui il musicista o il danzatore o il suonatore o il, come dire, il mamutone oppure quello del carnevale eccede a se stesso, cioè praticamente riesce a restituire qualcosa che noi riconosciamo gli arriva da una tradizione che ha una radice di secoli indietro, insomma, non è esattamente lui, ma è qualcosa che, diciamo, vive, rivive e lo muove, per cui in quel caso, certe volte, veramente, avere una macchina a mano e sfrontatamente, pure con tutta la sporcizia, andare a vederlo da vicino è un'emozione che tu restituisci come, come dire, come testimone, come viaggiatore che ha visto qualcosa di incredibile. Poi, ritornando a quello che diceva Agnazzo, io lo capisco tantissimo, perché certe volte essere immersi in questo rito e capire che cosa dopo un viaggio questo ti ha lasciato e cosa tu riesci a restituire, anche facendo lo sforzo di capire cosa hai vissuto e quindi portando qualcosa di vivo, e lo si racconta di più se effettivamente uno, appunto, scrive, forse la scrittura o addirittura la fotografia certe volte riesce a raccontare di più che cinque macchine da presa ben piazzate, dove a quel punto poi, in qualche modo, come dicevamo prima, per lo spettatore del teatro c'è sempre lo zoom per cui tu monti e poi inevitabilmente sceglierai probabilmente quell'immagine diciamo che ti emoziona di più. Però sarebbe interessante, chissà se si può prendere quei filmati ormai storici di quando Ravi Shankar fa le prime uscite con la figlia, con Agnuska, che poi ce l'avete in Inghilterra perché abita a Londra e io ho avuto la fortuna di conoscerla, dove lui sul palco la cazziava proprio ad occhiate per ritornare a quello che diceva Macchiarella, la guidava con gli occhi al suonatore di Tabla e a lei ed era molto, molto infastidito per non dire di Mel Davis quando girava le spalle ad Erbienko. Forse, diciamo, il linguaggio del corpo restituisce qualcosa di quel momento lì, insomma. Marco, c'è un Stefano Cosso che scrive, ma a questo punto ci troviamo anche a parlare di qualità dei file. Lo trovi? No. L'individuazione di quelli con la qualità migliori, punto interrogativo, migliori per l'analisi specifico. Alle 3.32, Stefano Cosso. Eh, non... No, 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 no. Ah, sì, sì. Ci troviamo anche a parlare di qualità dei file di registrazione e dell'individuazione di quelli che con la qualità migliori. Migliori per l'analisi. Posso provare? Non so, qua ci sarebbe da parlare tutta la notte, ma... No, sono tutti temi molto affascinanti ai quali tengo molto. Allora, io vedo intanto... Io ho vissuto le mie esperienze di etnografia sul campo come momenti irripetibili, bellissimi, affassionanti, con i loro limiti. Quindi, per quanto riguarda tenere la videocamera in mano, per me è bellissimo. Cioè, quello è un approccio cinematografico, nel senso che a me piace esplicitare il fatto che c'è una persona che sta dietro alla videocamera, sta guardando, fa delle scelte e quindi avere una videocamera operata a mano esplicita il punto di vista e questa è una delle due posizioni possibili o tante in mezzo, se volete, e a me piace. Quando ho fatto lavoro sul campo, io spesso l'ho vissuto, a volte anche ai limiti del discutibile, ma per me è un'esperienza epica, è un'esperienza romantica, è bello, faccio degli errori, ma cerco di vivere un'esperienza e cerco di raccontarla. Io ho lavorato su rituali, tra l'altro dagli incroci, lavoravo su dei rituali di possessione, non proprio di possessione, comunque dei rituali religiosi, molto vicini ai culti di possessione e quindi facevo queste lunghe notti a documentare questi rituali con solo una videocamera e un registratore, il registratore lo piazzavo nel punto migliore possibile e poi con la videocamera cercavo di cogliere il massimo ed ero sempre frustrato perché comunque questi rituali in cui a volte c'erano 50-100 persone, io potevo riprenderne 5-10 per volta e non avevo idea di dove stanno succedendo le cose più belle, a volte stavano nella stanza a fianco e quindi nella documentazione etnografica uno spera un po' di fortuna, un po' di bravura, un po' di impegno e fare il suo massimo, documenta l'esperienza dell'etnografo in quel caso, poi quando è possibile lavorare con partecipanti al rituale o i musicisti, uno può fare un lavoro più accurato di documentazione, però anche questo per me è valido e adesso saltando all'altro argomento di una documentazione immersiva, io più del 3D oggi trovo interessante il 360 gradi nel senso che le nuove tecnologie delle videocamere a 360 gradi permettono di mettere una videocamera che riprende tutto e se c'è una buona risoluzione uno non c'è più il problema dell'inquadratura e può rinquadrare e fare un montaggio dopo, può lasciare una documentazione a 360 gradi da vedere con la maschera, gli occhiali, come si chiamano, non lo so e associato con un microfono a 360 gradi è un'opzione nuova, potente, importante anche se comunque non sfugge al problema che c'è una scelta di un punto di vista perché uno da qualche parte la videocamera la deve mettere e quindi se la metti in testa al musicista avrà il punto di vista del musicista se la metti in testa uno in prima fila avrai l'esperienza del pubblico col biglietto migliore in prima fila però comunque il punto di vista non si sfugge ci sta anche nella telecamera a 360 gradi diciamo che mettendola tra pubblico e musicista in qualche modo c'è un compromesso per cui si riesce a vedere il pubblico si riesce a vedere i musicisti abbastanza bene però pure lì, cioè, io sono malato in queste cose probabilmente dovrei averne due o tre direi a 360 gradi ma appunto non si finisce mai però comunque è una prospettiva diversa e interessante, ecco dopodiché, sì, insomma, per me va bene esplorare tutte queste cose è sempre importante chiarire comunque le finalità con le quali si prende una macchina di registrazione e si va a documentare un evento di performance ci sono le finalità di ricerca e di analisi le finalità di documentazione le finalità di voler creare un documento addirittura che può essere di finzione o come lo vogliamo definire e quindi una volta che uno chiarisce quali sono i propri obiettivi fa le scelte migliori che può fare e poi fa il suo lavoro e poi si vedrà che cosa esce fuori io se posso volevo aggiungere una cosa brevissimamente oltre a ringraziarvi tutti per i fantastici interventi è stato veramente un pomeriggio ricchissimo denso e molto molto interessante e mi spiace che non ci sia più Nicola Scaldaferri di cui tra l'altro sono stato allievo a Milano e insomma ricordo diverse lezioni anche proprio su per esempio un volume come Camera Etnografica di Marano quando uscì e che insomma fu illuminante sotto moltissimi punti di vista io vorrei rilanciare perché sulla questione della documentazione perché secondo me è il nodo centrale attorno a cui abbiamo ragionato durante tutto questo pomeriggio sia appunto attraverso questioni più di natura analitica e più vicine anche alle digital humanities come appunto nel caso di Simone oppure più da un punto di vista qualitativo non a caso è stato a un certo punto citato da Felice Kilforgerz e la questione della thick description che è il nuovo come dire un elemento fondamentale rappresenta l'altro lato della medaglia da una parte c'è l'analisi e dall'altra parte c'è l'indagine descrittiva questi due elementi devono in qualche modo dialogare per far sì che la riflessione sia completa io però volevo dire una cosa un po' più lapidare un po' forse provocatoria non so se stanno accolte oppure no però riflettendo proprio sulla questione della documentazione sulla necessità di continuare a riflettere sugli strumenti della documentazione e soprattutto come strumenti della documentazione come strumenti di mediazione tra soggetti e pratiche e oggetti a me è venuto in mente che una cosa che viene dibattuta molto spesso all'interno dei media studies ultimamente ossia che in fondo i media non esistano esista soltanto l'esperienza di mediazione come appunto viene affermato per esempio da Richard Grusin nel suo ultimo volume e quindi se appunto in media non esiste soltanto la mediazione gli oggetti testuali che poi alla fine produciamo sono sempre meno importanti del lato stesso di documentare che diventa un momento in cui tutti i nodi problematici vengono al pettine e che forse è un momento ancora più interessante del documento che gli sai che viene prodotto tutto qua insomma alle sette e mezza dopo quattro ore e mezza infatti tu esci fuori con questo non ne riusciamo più no infatti forse ci arriviamo a concludere no io volevo reagire io noi siamo finta ma siamo a fianco si si capiva si intuiva che si era no proponendo in realtà un punto di vista l'opposto cioè che in molti casi sento una scusate Diego hai tu ah sì scusa che in realtà esiste anche la riflessione opposta per cui in realtà noi ricercatori la cosa più importante che produciamo alla fine sono i dati che lasciamo sono che una cosa che non piace però molto spesso le nostre interpretazioni le nostre teorie durano se siamo dei buoni studiosi vent'anni trent'anni spesso sono i nostri allievi che sono i primi a smontarle e quindi il nostro modo di vedere le cose di interpretare alla fine come si succede una dopo l'altra i dati che abbiamo raccolto restano e possono essere reinterpretati e se sono ben catturati possono essere riletti con nuove tecnologie in maniere prima inaspettate insomma per cui anche questa potrebbe essere una prospettiva da tenere in considerazione e posso però vorrei aggiungere una aspettate uno per voi Ignazio e Simone parla prima Simone io sono si poi dico una cosa anch'io no la mia è molto breve nel senso che sono perfettamente d'accordo però mi piace in qualche modo collegare tra Diego e Marco cioè per me per me la documentazione che produciamo è fondamentale ed è altrettanto fondamentale il corpo di metadati che produciamo che quella è una cosa che spesso viene sottovalutata ed è essenziale perché se noi lasciamo soltanto tanti file audio tanti file video valgono una frazione infinitesimale rispetto a quello che valgono se sono correttamente documentati perché comunque poi vanno interpretati vanno capiti e un file video decontestualizzato vale molto meno che un file video documentato posso dire? o Felice? no 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 prima Ignazio prego prego no 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 Felice ma guarda Felice vai tu così poi Ignazio chiude va bene e chiude anche tutta la serata allora dunque sempre dal mio punto di vista periferico non voglio insistere troppo su questo ma il tema della documentazione vorrei dire reagire in qualche misura anch'io anche a quello che ha detto Diego allora io potrei replicare così l'atto del filmare o l'atto dell'ascoltare o del registrare io vorrei che sia possibile interpretarlo anche come un atto relazionale come un atto di relazione come un qualcosa che in qualche misura torno a MacDougall lega in un momento dato un osservatore che filma o che fotografa o che registra è un qualcuno che agisce davanti a lui sulla base di un'intesa di un accordo di un rapporto in cui entrambi i soggetti stanno dando significato a quello che si vede insomma o quello che risulta ecco non vorrei ma lo sto dicendo come dire veramente forse come una preoccupazione eccessiva che l'atto della documentazione sia ancora intesa come un atto in qualche misura come dire troppo oggettivante dal mio punto di vista troppo portato come dire a mettere al centro come dire un fatto oscurando però completamente nel documento stesso voglio dire appunto le relazioni che sussistono fra chi sta davanti e chi sta dietro questo mezzo di ripresa insomma mi piacerebbe pensare che sia possibile anche nell'atto di documentazione più rigorosa possibile quattro telecamere tre telecamere da su da giù eccetera che in tutto ciò ci sia la traccia di quello che succede socialmente nel momento in cui si fa questo perché tenderei come dire come antropologo a a valorizzare a tentare soprattutto di non dimenticarmi questo questo fatto questo elemento della copresenza e disarticolare del tutto questo rapporto ecco può essere secondo me problematico anche se poi magari i destinatari come dire della nostra produzione sono magari interlocutori che verranno nella prossima generazione fra trent'anni o altro insomma ecco perché in qualche misura come dire insomma esperienze come quelle appunto non vorrei tornare di nuovo a MacDougal comunque ritorno a MacDougal sono interessanti ma non solo lui è per carità diversi molti altri per cui in qualche misura come dire questo livello di compartecipazione Lucien Castentelo l'ha chiamato di commensalismo di mangiare il film è un luogo in cui si mangia insieme si fa qualcosa insieme rimangono queste tracce e mi sto chiedendo appunto se non sia problematico rinunciarlo scusate una piccola provocazione ponetela prendetela per quello che è nel senso che ho veramente come dire un giudizio di sconfinato come dire valorizzazione come dire ammirazione per il lavoro che viene svolto a Durham come viene svolto appunto da tutti voi ecco come tromusicologi come ricercatori sia chiaro grazie io volevo per chiudere poi riprenderemo in un'altra occasione che così come i allievi debbano superare i maestri perché altrimenti se l'allievo non supera il maestro il maestro è stato scarso questo è inutile stare a discutere la scienza migliore così quindi ma non soltanto per quanto riguarda le interpretazioni anche per quanto riguarda l'impostazione della documentazione perché la documentazione non è appunto Felicio dice l'ha detto sono perfettamente d'accordo con lui c'è l'interazione ma c'è anche la singolarità il background del ricercatore vuol dire quando io ho cominciato a fare queste cose avevamo lui e la bobbine che era una cosa che gli altri non avevano noi pensavamo di aver fatto eravamo convinti di stare facendo i documenti oggettivi rivesti oggi a 40 anni di distacco in realtà no perché avevamo deciso noi cosa era musica e cosa non era musica mettevamo i microfoni e spegnevamo il registratore quando noi decidevamo che era quello che avevamo studiato nei seminari quando ci facciamo un'attività di formazione quello che facciamo oggi quello che fai tu che fai Simone eccetera eccetera fra 20 anni verrà certamente considerato come una documentazione parziale che rispende per esempio tra 20 anni potrà succedere che si rinasca questa come dire questa costruzione questa idea che è lo studioso che decide cosa è musica e cosa non è musica e quindi magari tra 30 anni 20 anni criticheranno questa nostra idea di oggi di provare a documentare il più possibile non lo sappiamo cosa succederà nel futuro quello che credo si possa dire che comunque sia anche l'attività di documentazione sarà migliore perché ci sarà il processo della tecnologia ma perché cambieranno i modi di fare musicologia antropologia culturale e cambieranno soprattutto i background di chi la fa noi siamo lì non siamo autori andiamo lì e come decidiamo di mettere i microfoni ci manifestiamo noi stessi e quindi questa cosa qui non la sarei convinto che si possa conservare e rimandare una documentazione oggettiva una rappresentazione oggettiva di cos'è un fatto musicale perché il problema è capire come si definisce che cos'è un fatto musicale e dopo viene l'attività della documentazione mi fermo qui perché altrimenti non ne usciamo più riprenderemo con i cagliaritani il discorso al bar di Monica quando ci facciamo le nostre insalate parliamo di questo con gli altri non cagliaritani speriamo di avere presto occasione di ritrovarci di parlare insomma tra di noi così come abbiamo fatto ringrazio tutti gli studenti non so quanti ce ne siano quanti ce ne siano comunque insomma ricordo loro che devono partecipare per avere il credito formativo devono partecipare all'intero ciclo e scrivere una relazione di accompagnamento noi siamo ovviamente a disposizione per questa scrittura insomma per tutti i dubbi e cose che dovessero esservi utili ringrazio gli amici e colleghi che hanno movimentato questo pomeriggio veramente intenso e molto ricco grazie Gianfranco felice Simone grazie io vi saluto vi ringrazio grazie a voi grazie grazie di e verrò a prendere qualche insalata visto le prossime volte che vieni a Cagliari le prossime volte che vieni a Cagliari tu scrivici sono a Cagliari sono bloccato a Cagliari adesso perché facevo l'ultimo pezzetto del festival che è appunto di musica e cinema e io speravo in presenza invece l'abbiamo fatto via web per cui adesso non torno a Roma perché siamo anche noi in modalità web col centro sperimentale per cui oramai sto qua fino a gennaio per cui ci vieni a prendere un'insalata con voi potremo a gennaio quando io torno a Cagliari perché io non sono e tu invece sei ci troviamo a gennaio quando torno a Cagliari grazie a tutti grazie io volevo solo ricordare che il prossimo appuntamento è lunedì prossimo il 21 sempre alle 15 abbiamo due seminari avanguardie e forme popolari tra musica e media visivi e musica d'arte e cinema d'autore grazie a tutti va bene grazie a tutti grazie a tutti arrivederci ciao ciao sempre collettare questo link se ce la faccio no manderemo un nuovo link lo mandiamo anche a voi i relatori oltre agli studenti grazie 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 a voi a tutti